buongiorno ragazzi siamo qua al lago balloni di cesenatico e c'ho la canna che sembra che stia mangiando e niente siamo qua per dire che questo è innanzitutto il lago dove ha finito il docufilm il migliore e poi sono in compagnia niente poco di meno che il nostro stefanino serra stefano com'è sto posto è bellissimo una cosa molto bella piace molto sai che quando ero ricordare che mi hai detto che lì c'era marco si venivano sempre qui precisamente in quell'angolo la guarda in quell'angolo lassù e quando è quando ho preso quella trota che marco ungeva no tira che c'è che t'ancibone no è grossa no no c'è che t'ancibone no no è grossa tutti i ricordi tutti i ricordi che rimangono e noi siamo ancora qua vedi gli adere che pesca quando eravamo in bici mi dice dai seri vina piscate con me e io gli dici ma no can staggale per tempo aspite che vengono e pesca invece vai che bel posto non la facciamo la traduzione perché oggi siamo romagnoli puri quindi chi vuol capire capisca capiscono i napoletano meglio imparare di tutti che sono napoletani ciao ragazzi un saluto a tutti da cesenatico e precisamente dal lago valloni